E' da dove mi arrivate così? Nel bel mezzo dell'anno scolastico? Da Ostia. È che papà ha perso il lavoro e ci hanno tolto casa. Beh, dove abitate? Su al passo, vicino allo Splendor. Nostro zio ci ha prestato una baita. Vede che state buone, ecco. Tempo di organizzarci. Non hai detto che ci stavamo per poco? Guarda che Alfredo ci si abitua. Comunque secondo me ti troverai bene qua. Zio, che facciamo con Fabrizio? È meglio di venire a stare da te. Non è facile. Ci sono delle cose da sistemare. Ma quelle cose, zio? Io devo tornare a Ostia. Il ritiro per i campionati italiani. Tu non mi lasci il tuo compagno, vero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Le chiavi della piscina. È già la seconda volta che ti becco, che sia l'ultima. Ma tuo padre Fabrizio come fai? Non tocca a me occuparmi di loro, no? Ma pensi che possiamo andare avanti così? Lo capisci che è colpa tua se siamo puniti quassù? Lasciami. No, non ti lascio stare! E non ci rimango qui a farti la baglia. Io me la devo andare da qua. No, non ci rimango! No, non ci rimango. No, non ci rimango qui ti bemmo! E non ci rimango!